Recensione di Samsung Nexus 10, il primo Nexus da 10 pollici realizzato da Samsung Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it Oggi è il momento di recensire Samsung Nexus 10 Si tratta del tablet da 10 pollici prodotto da Samsung Venduto da Google, quasi solamente da Google In tutto il mondo, tutto il mondo escluso Italia Perché Google non ha ancora aperto il Play Store online Samsung non si è sbilanciata sul fatto se venderà o meno il tablet nei paesi dove il Play Store non è presente In realtà un pochino ha fatto intendere che per adesso no, poi si vedrà Quindi non abbiamo un prezzo preciso del prodotto Io vi do un prezzo che è azzardo, nel senso me lo sto inventando un pochino così Che potrebbe essere 499€ Però l'ho appena inventato su due piedi perché comunque il tablet viene venduto a molto molto meno sul Play Store Dove c'è, dove è presente ovviamente, quindi non in Italia Questa è la confezione Molto semplice, molto bella Capiamo subito dai colori, dal font, da quello che c'è scritto Che è un prodotto Google Quindi la realizzazione è di Samsung ma è come se l'avesse fatto Google per capirsi Il tablet l'abbiamo già levato dalla confezione Cosa è presente all'interno? Cavo USB, micro USB per la ricarica e lo scambio dati Micro, manuale e alimentatore inglese visto che questo arriva dall'Inghilterra Fine, niente auricolari, niente custodia, niente, niente Purtroppo è esattamente la media dei tablet Quindi niente in particolare da lamentarsi Non come per Nexus 4 dove almeno le cuffie ce le saremo aspettate Questo è il tablet, molto bello Un design un pochino più ricercato rispetto agli altri modelli Qua davanti abbiamo la fotocamera frontale Qui ci sono due speaker frontali molto molto potenti che poi testeremo insieme Qua sotto è presente il connettore per dock Sul lato destro abbiamo la porta micro USB come abbiamo detto Se non lo ricarichiamo tramite il nostro alimentatore Si ricarica ugualmente con una qualsiasi porta USB, cavo USB, micro USB Però ovviamente più lentamente Bilanciare del volume e tasto di accensione che sono proprio nella parte dove va a spiovere Quindi il tasto di accensione sappiamo sempre abbastanza bene dove andare a premerlo Perché è quasi sullo spigolo Sul lato sinistro abbiamo Scusate, infatti Questa è la porta micro USB e il jack Questa invece è la porta mini HDMI Questo è il retro Questa parte qui è, come potete bene immaginare Gommata con microfono, fotocamera e anche LED flash Qualche dato sul tablet La fotocamera che avete appena visto qui davanti a voi è da 5 megapixel Quella frontale è da 2 megapixel Genericamente il processore è un Exynos Dual Core da 1.7 GHz Con la nuova Mali T604 2 GB di RAM 16 GB di memoria interna non espandibile Venduto anche nella versione da 32 Batteria da 9000 mAh Lo schermo Ora, quando lo voltiamo ne parliamo Questa parte qua sotto invece Che nelle immagini magari può sembrare di metallo o altro È di una gomma molto molto rigida E che garantisce una presa veramente incredibile Siamo veramente sorpresi da questa scelta Però molto molto azzeccata Nel complesso il tablet è costruito veramente benissimo Probabilmente il miglior tablet Almeno costruttivamente Nella fascia dei 10 pollici Andiamo a sbloccare lo schermo Andiamo magari a ruotarlo a nostro favore Sulla interfaccia a 10 pollici con Android 4.2 Qui abbiamo per sbloccare in ogni direzione Qua sotto abbiamo il nostro Google Now Qui abbiamo l'interfaccia con widget E possiamo anche aggiungerne altri ovviamente Andiamo quindi a sbloccare E ci troviamo davanti alla nostra interfaccia Scusate se nascondo un attimo Ma erano mail private Quindi questa è la nuova interfaccia di Android 4.2 Per tablet di dimensioni superiori ai 7 pollici Quindi nel nostro caso 10.1 Non c'è più il tasto qua su Per accedere alle applicazioni È tornato come se fosse uno smartphone I tasti qua sotto sono di nuovo centrali Quindi back, home e il multitasking Dove possiamo ovviamente chiudere le nostre applicazioni Questo è il tasto per il drawer delle applicazioni Le notifiche non sono più in basso Sono tornate in alto Trascinando da qui abbiamo le notifiche Come ce le immaginiamo Quindi con l'ora e la data Mentre invece trascinando da destra Accediamo ai toggle rapidi Toggle rapidi abbiamo già detto Se la modalità aereo premuta va direttamente in modalità aereo Tutti gli altri ci rimandano Tra virgolette semplicemente al menu delle impostazioni Cosa che a mio parere non è esattamente sbagliata Quindi queste sono le cose fondamentali di Android 4.2 Su un tablet da 10 pollici Tutto il resto è praticamente invariato L'avete visto anche voi dal drawer delle applicazioni Quindi nessuna novità particolare In generale le prestazioni sono ottime Prima di parlare di prestazioni però abbiamo detto Quando avremmo voltato il tablet avremmo parlato dello schermo Ecco qua Lo schermo ha risoluzione 2560x1600 Quindi sono 299 Arrotondiamo a 300 dpi Una risoluzione mai vista Si faticano a vedere i pixel anche da molto vicino Online avevo sentito un po' di scetticismo riguardo a questa cosa La risoluzione riguardo alle applicazioni non ottimizzate Devo dire che le applicazioni non ottimizzate Non mi sono sembrate così catastrofiche Come venivano descritte online Non ho trovato tra le applicazioni che uso più di frequente Nessun problema particolare Faremo poi una prova con Need for Speed Most Wanted Che è veramente impressionante Quindi la risoluzione per me è assolutamente promossa a pieni voti Sperando che possa veramente diventare un nuovo standard Come spesso Google fa per i Nexus Ovvero c'è quella caratteristica in più che Google vuole spingere Affinché diventi uno standard Basta pensare Scusate ho spostato la videocamera Basti pensare per esempio all'NFC del primo Nexus S Che ancora tutti snobbavano completamente NFC che è presente tra l'altro anche dentro in questo Nexus 10 Quindi altro primato Ovvero Primo tablet a 10 pollici con NFC Queste sono le applicazioni Il browser stock è diventato Chrome Quindi andiamo a provarlo Con la visualizzazione full del nostro sito Eccoci qua Buono lo scroll Però vedete anche voi Non è esattamente quello che ci aspettiamo dal top di gamma Samsung ma soprattutto Nexus La fluidità purtroppo è lontana da quello che avremmo voluto Con anche qualche bug di troppo Vedete anche il pinch to zoom Adesso si è fermato qui Perché si dovrebbe fermare qui Io voglio zoomare ancora No, non me lo concedo Devo dire che non sono proprio totalmente soddisfatto Diciamo che nell'uso giornaliero ovviamente Le prestazioni sono più che accettabili Però devo ammettere che Per aver fra le mani il top di gamma Nexus Che come prima cosa dovrebbe dare il buon esempio Non posso ritenermi esattamente soddisfatto Posso ritenermi soddisfatto per la definizione dei font Per dire La risoluzione è altissima Quindi il testo si legge magnificamente su internet Però non è una caratteristica di Chrome È una caratteristica del tablet Quindi è Chrome in particolare Che non colpisce in particolar modo Andiamo un attimo nella galleria Dove troviamo i nostri scatti Tra l'altro scatti della fotocamera Che sono buoni Devo dire che per la prima volta Sono abbastanza soddisfatto dalle foto scattate da un tablet Quindi vediamo un po' il nostro 1080p full HD Come si mostra su questo schermo La risposta è ottimamente Non possiamo dire lo stesso però Dell'MKV Che si riproduce Ma senza audio Però almeno la risoluzione Almeno della risoluzione Potete godere Anche voi Vediamo di avvicinarci ancora un po' Niente audio Però Fluidità impeccabile E risoluzione eccelsa Ricordiamo schermo Oltre l'HD Questo invece è il nostro AVI Niente da fare Come al solito i dispositivi stock Android Si rifiutano di funzionare Con i filmati AVI La fotocamera abbiamo detto Buona E con tutte le funzioni Di Android Jelly Bean 4.2 Vediamo se mette a fuoco Sì Quindi anche un'ottima macro Oltretutto Premendo qua sotto Abbiamo la possibilità anche di attivare Photosphere Quindi per fare Le foto a 360 gradi Anche col vostro tablet Non mi sembra un'idea Geniale Andare in giro con un tablet a 10 pollici A fare foto Ma Se lo vorrete fare Lo potrete fare Per i libri Facciamo un po' Una prova Vediamo se Si riesce un po' a capire La Definizione del testo Non so se riuscite un po' a vedere Ma è sorprendentemente Eccelsa Anzi Ve lo dico io Sicuramente non riuscirete a vedere Perché Fra la compressione dell'esportazione Fra la compressione di YouTube Sicuramente non si riuscirà a capire in video Però La definizione è Per la prima volta Veramente eccelsa Su un tablet da 10 pollici Andiamo a provare la musica Che come vi avevo detto No No Is a fantasy Quindi oltre al volume molto alto Anche la qualità dell'audio è decisamente buona Quindi promosso assolutamente da questo punto di vista Una prova che possiamo fare Per testare sia audio Che la qualità del display È sicuramente avviare Need for Speed Come vi avevo detto Ora Io devo dire Sono abbastanza un ignorante In materia Videogiochi Però posso garantirvi Che Può assolutamente valer la pena Acquistare Need for Speed Most Wanted Bene bene Vai Potrete quindi godere di Velocità Fluidità E anche di un ottimo audio Direi che non è assolutamente pensabile Di giocare Così Mi troppo meglio con l'accelerometro Però Se no non riesco a farvi vedere Non riesco a farvi vedere Non riesco a farvi vedere Quindi un po' in generale Posso garantirvi che Need for Speed È uno dei pochi giochi che mi riusciva Ma con i controlli così È veramente impossibile Dovrete fidarvi Quindi abbiamo visto un po' Tutti gli aspetti di Questo tablet Che Ha anche una buona autonomia 9000 mAh di batteria Non sono assolutamente pochi Rimane ovviamente È una recensione un po' così Perché rimane un po' l'inconita Di quando arriverà in Italia E a che prezzo Posso dire che Siamo assolutamente soddisfatti Da questo tablet Su quasi ogni punto di vista Sì Manca La connettività OMTS Non è in vendita Nessun modello simile Possiamo forse Sperare come sul Nexus 7 L'arrivo poi Di una versione OMTS Ma Non abbiamo Nessuna conferma in merito E per adesso Non ci sono neanche rumor In questo senso Il tablet è veramente ottimo Difficile dare una valutazione Senza conoscerne il prezzo di lancio Per il nostro paese In ogni caso Diciamo Senza considerare questo Piccolo dato Il tablet è veramente ottimo Un ottimo schermo Un'ottima Qualità costruttiva Il software molto buono A cui ovviamente Essendo Android stock Mancano alcune cose Per gli utenti Un pochino meno esperti Quindi sicuramente Gli utenti Meno esperti Possono anche Magari prendere in considerazione Tablet Con interfacce personalizzate Non che ce ne siano molti All'un momento In commercio Quindi rimane Un po' soltanto sempre Samsung e Asus Fra cui scegliere Per i tablet Da 10 pollici Di una certa qualità Certo è che Nella fascia Dei tablet 10 pollici C'è molta meno concorrenza Rispetto Agli smart Per esempio Quindi facendo riferimento A Nexus 4 Dove c'è tanta concorrenza E tanti altri prodotti Fra cui scegliere Qui la situazione È un po' diversa Quindi sicuramente Questo tablet Può essere preso in considerazione Più agevolmente Anche dagli utenti Meno esperti Un saluto a tutti Da Ciso Per AndroidWorld Punto 8 Un saluto a tutti Un saluto a tutti Un saluto a tutti Un saluto a tutti Un saluto a tutti